Allora, sono più affezionata io alla punta di Barcarello, perché quando ero piccola io mi ricordo che mio padre, io, insieme alla mia famiglia, mia sorella e mia mamma, andavamo lì a pescare il rizzo quando all'epoca si poteva fare. Parlo di tanti, tanti anni fa. E quindi comunque io ho questi ricordi di infanzia e per me il legame col mare è proprio viscerale, ho questo proprio amore. E infatti, per esempio, personalmente a me non piace la spiaggia, proprio perché forse sin da piccola sono stata abituata sugli scogli a questo tipo di mare, che comunque il roccioso fa sì che anche sia subito il mare profondo, mi piace tuffarmi, mi piace anche guardare i fondali marini. Per me questo è il mare che comunque mi piace di più, che lo ritengo più affascinante sotto tanti profili.